Il mio padre è un pazzo, mi faceva studiare le tabelline inventandosi le rime per farmi rimanere in mente e me le faceva rappare. Due, occhio di bue, se arriva pure il gatto, due più due fa quattro. Il capitolo trap, musicalmente è una cosa che mi piace, conosco artisti che hanno bypassato allegramente la cosa della trap e sono andati oltre, posso dirne uno, tanto è americano. Smino. Non ha sputato addosso a quella roba, semplicemente l'ha bypassata, ha preso qualcosina, quello che gli interessava, che poi sono le cose che la rendono interessante. A me piace Young Signorino in Italia. L'impostazione vocale di Young Signorino è quella di uno che è entrato in studio per fare un pezzo figo. I cartoons sono stati il primo gruppo in generale di cui mi sono innamorato. Ho veramente consumato il loro primo disco e mi hanno fatto delle errori più grandi della loro vita, comprarmelo. Ho passato tutta la mia infanzia a fare E' stato il mio primo impatto con l'arte musicale, è stato traumatizzante. Una cosa che vuoi fare, non la puoi fare perché un contesto te lo impedisce, falla lo stesso, vedrai che il contesto si adatterà a te e non viceversa. Il contesto è più malleabile di te, ma se tu non lo sai, tu ti deformi prima del contesto e il contesto ti distrugge. Il contesto è il contesto è il contesto di un contesto di un contesto. Il contesto è il contesto è il contesto di un contesto.